Avete un ospite speciale per cena e volete che la vostra tavola sia altrettanto speciale? Ecco i consigli di Annalisa Falcone, membro dell'Associazione Italiana Maggiordomi. Queste tavole abbiamo pensato di utilizzare naturalmente quello che la casa proponeva e abbiamo pensato a due arredi diversi. Uno più classico, usando dei piatti e dei bicchieri di carattere più tradizionale e un altro invece in più moderno. Allora partiamo dalla prima tavola dove abbiamo usato come tovaglia un runner in fiandra verde e siccome abbiamo giocato sui colori di base del piatto che sono il verde e il porpora, il tovagliolo l'abbiamo messo a contrasto. Abbiamo scelto delle posate in argento e i bicchieri sono di una manifattura francese che si trova a bio, mentre il bicchiere verde è un antico bicchiere di Murano, mentre i piatti è una manifattura che si chiama Aviland che ha sempre fatto servizi per le grandi case. Quello che io consiglio sempre quando si arreda una tavola è di guardarci intorno in casa e di usufruire di oggetti che magari normalmente non hanno la destinazione proprio specifica per la tavola. Quindi per esempio questi due portacenerini in malacchite verde fanno parte di una collezione che normalmente non è sulla tavola, lo stesso questa alzata di marmorosa Francia Napoleone III che fa da centro tavola, anche lei normalmente sta su una libreria insieme a una sua gemella. Per creare proprio quello che noi abbiamo in casa lo dobbiamo sfruttare e con la nostra fantasia saperlo mettere in modo che anche i nostri ospiti ne possano godere. Abbiamo ipotizzato una mise en place dove ci sarà un antipasto, per cui un piattino piccolo e delle forchettine piccole da coltello e forchetta, e un primo piatto. Mentre poi il dessert, anche qui abbiamo usato un qualcosa che già esisteva in casa e che non faceva necessariamente parte del servizio, ma che sono questi piatti inglesi che comunque si abbinano benissimo una volta che verranno posati con il dessert e che danno un tocco di originalità alla tavola senza essere sempre ripetitivi. Quando sarà poi il momento del caffè, invece, useremo le stesse tazze che fanno parte del servizio con una zuccheriera in argento e una lattiera in argento. Quello che è importante quando si prepara una tavola, questo dovrebbe essere giornaliero, ma soprattutto quando ci sono ospiti, che tutto quello che usiamo sia impeccabile. Quindi i cristalli non devono avere formazioni di calcare, le porcellane non devono avere nessun gusto di chiuso e gli argenti devono essere perfettamente puliti. Passiamo all'altra tavola. Questa, invece, abbiamo pensato a una tavola più moderna, dove, per esempio, ci potrebbe essere un menu a base di... Tanto cominceremo con una piccola amuse-bouche che avremo posto in questa piccolissima zuppierina che va anche in forno, per cui potrebbe essere un amuse-bouche caldo come è semplicemente un frutto di mare servito qui dentro, un'ostrica piuttosto che un gambero particolare. E il piatto così essenziale dà molto risalto al cibo. Quindi, qui immaginerei, ci vorrebbe l'aiuto di uno chef per far vedere ai nostri occhi come renderebbe bene, non so, un misto di tartare di pesce, per esempio. Infatti, abbiamo messo delle posate da pesce in esterno. Mentre il piatto sottostante, che verrà usato, per esempio, pensiamo per un nido di taglierini con il tartufo e che nel bianco di questo piatto darebbe un bellissimo tono di colore col suo giallo e col colore dorato del tartufo. Anche qua, un piccolo scherzo che è il pane col sesamo perché il sesamo, questa spezia nera, accompagna, da un punto di vista del colore visivo, quello che è l'arredo della tavola. Queste foglie sono delle sculture di floris che normalmente non stanno in tavola, così pure come questa composizione di vasetti di colombo che possono essere poi spostati a piacimento. Quindi possono fare gruppo, possono fare fila, possono essere uno, due, tre e comporre ogni volta un disegno differente. Abbiamo usato dei bicchieri molto eleganti per le loro sfaccettature, nella loro semplicità. Una cosa che consiglio sempre sono questi fazzolettini che una volta immersi nell'acqua, soprattutto quando ci sono pranzi a base di pesce, si ingrandiscono e quindi servono come rince d'oeuvre, come per pulirsi le mani. Questo servizio da tavola invece arriva dalla Francia, arriva da Ponta Venn. Questo è il classico disegno delle rune che è stato interpretato con lino e setta, in questo caso, per questa parecchiatura. Anche qua, al momento del caffè, sarà, diciamo, particolare. E allora avremmo pensato ad un vassoio nero in lacca e abbiamo usato anche qua questo piccolo venditore di colore che ci riporta un po' al deserto, ci riporta un po' a queste atmosfere esotiche per servire questi zuccheri di canna e di zucchero tradizionale in una maniera un po' diversa, un po' simpatica. È fondamentale sia che ci sia il servizio, che poi si occuperà del servizio in tavola, sia che invece sia una cena informale dove sarà la padrona di casa a espletare il compito di Servan, di avere a disposizione tutto ciò che può servire, quindi un'oliera pronta, acqua naturale d'acqua gasata, le posate di portata, un piatto che tenga, un sottopiatto che tenga al caldo in modo da non rovinare la tavola, una riserva di pane, tutto quello che deve essere necessario senza far vedere all'ospite che ci agitiamo andando avanti e indietro.